...filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio. Siamo insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Prova a parlare a Francesco che vediamo quali microfono hai a disposizione. Quali microfono hai a disposizione? Non so, perché non è numerato... Parla nel microfono? Mi ascoltate? No, prova adesso, prova adesso. Mi ascoltate, mi sentite? Sì, adesso mi sentono. Va bene. Perfetto. Allora, mi ricordo che ci sono Claudio e signori, meccanico, apprendista Stragone, guardando dell'Anticristo e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti della Postale 53 Marostica Vicenza. Una notizia per radio, intanto, abbiamo fatto un cd che non gliel'ho portato a Francesco perché qualcuno adesso farà delle coppie, sul rito che abbiamo ottenuto. del sostizio d'estate. Il cd, il filmato, ha una lunghezza di circa 35-40 minuti. Naturalmente prende soltanto il tempo del rito. Niente, questo filmato del rito, ne faremo coppie, sarà distribuito naturalmente fra le persone che hanno partecipato al rito. A mia personale discrezione, a mia personale discrezione, alcune persone non l'avranno. Mia persona... e adesso, visto che i nostri amici si stanno a ascoltare, non pensate, sono io forse che non l'avrò, sono io. No, tutti gli amici l'avranno meno qualche persona. Francesco sa già, ha già capito tutto, non c'è problema. Tutti quanti, quelli che hanno partecipato al rito, avranno il cd. Meno. Naturalmente io devo pur discriminare, no? Anche perché... Anche perché c'è un filmato che tu non hai di conseguenza. C'è un filmato che io non ho. Va bene. Anche due filmati che tu non hai, perciò sei a posto. Perfetto. Lo vedi. Va bene. Ok. Allora, e niente, abbiamo fatto questo filmato del rito, che naturalmente, secondo me, è una cosa piuttosto buona, piuttosto bella, diciamo, che sia anche da vedere. D'altronde, Francesco è spettacolare, non c'è niente da fare. Io, i riti spettacolari li odio, cioè non posso soffrirli. Infatti vedete anche la mia faccia corrucciata all'interno del cd. Però, effettivamente, se fai dei riti scenici, vengono più belli, cioè rendono di più come immagini. Ma vedi, quello che tu dici, no, vedi, questo è il tuo discorso dei riti, ma io ti voglio ricordare che il dio del teatro è Dioniso e che nell'antica Grecia, quando si faceva una rappresentazione teatrale, quello che si faceva, si prendeva dal tempio di Dioniso la sua statua, la si portava fuori e per tutta la durata delle rappresentazioni, Dioniso era presente. Di conseguenza, il teatro, la messa in scena, la raffigurazione, qualsiasi cosa ha una sua divinità, che è Dioniso. E Dioniso, di conseguenza, è un dio della comunità, perché la rappresentazione implica che ci sia uno spettatore, per quanto poco. In questo caso, nel rito del sordizio c'era Claudio, forzatamente è diventato spettatore, però logicamente Dioniso è anche questo. E poi Dioniso è un dio molto potente. Tu non devi fare come Orfeo, che sfugge a richiamo di Dioniso, perché Orfeo viene divolato dalle mena di Dioniso, perché rifiuta di partecipare al rito sacro di Dioniso. Sai che io non ho testo nulla di tutto ciò, mi stava benissimo. Il mio problema è quello di riuscire a far andare avanti le cose con equilibrio e con impegno per quello che noi facciamo. ciò non toglie che effettivamente, dal punto di vista della rappresentazione su un cd, chiaramente il rito scenografico ha più effetto sullo spettatore che non partecipa al rito. Cioè, in pratica, se facciamo il rito che abbiamo fatto, del rito del equinozio d'autunno, dove se ne sta mezz'ora, seduti sulle sedie a fissare il fuoco, chiaramente dal punto di vista scenico non ha nessuna resa. Meno male che c'è un folletto che danca davanti al fuoco. Però è chiaramente ha un valore, ha una funzione dal punto di vista della stregoneria da trasformazione della persona, però dal punto di vista scenico chiaramente non coinvolge. Ma un po' tutta la stregoneria è così, in realtà. Cioè, la stregoneria è una trasformazione interiore, una trasformazione psichica, una trasformazione emozionale, una trasformazione che ti porta a vedere il mondo in maniera diversa, però chiaramente se tu rappresenti chi pratica stregoneria in quel momento vedi solo una figura ferma. Cioè, dal punto di vista della ragione, ciò non rende. Per cui è chiaro che bisogna trovare tutti i compromessi possibili e immaginabili. Ma non sono compromessi. Tutte le cose sono importanti. Cioè, nel paganesimo non esistono compromessi, cioè nel senso che non esistono le rinunce a separazioni e dice facciamo meno. In realtà esistono un fatto particolare, che in epoca moderna per motivi culturali noi siamo meno abituati a rappresentare certe cose. Logicamente diventa più problematico rappresentare rituali di tipo religioso che non sono quelli cristiani. Ma anche in quelli cristiani abbiamo sempre la massima passività dei partecipanti in quanto consacrato è un qualcuno con quali merito può consacrare il rito. In realtà nel paganesimo tutti quanti possono partecipare. Ma quello che partecipano nel paganesimo è che c'è una connessione con qualcosa di grande, con un archetipo del rito. E di conseguenza anche lo spettatore ne trae un coinvolgimento, una partecipazione. Poi che Claudio non ami molto le raffigurazioni, le rappresentazioni, ma in realtà le rappresentazioni sono un qualcosa di incendibile del paganesimo in quanto il paganesimo è il fatto di osservare, di descrivere. Hanno inventato tutte le antiche religioni, i cristiani non sono scoppiazzate in maniera becera, tanto per essere chiari, insomma, non è che dopo duemila anni di scoppiazzamenti. Passiamo alla nostra notizia principe, Francesco. Cos'è una notizia principe? Quella notizia è che non ti aspetti, arrivano all'improvviso e che ti portano a molta ricchezza. Questa notizia principe si era già verificata circa un paio di anni fa, a Spanni, non mi ricordo esattamente quando, quando un tale Maurizio Antonello si è impiccato su una scala. Maurizio Antonello era una persona malata, profondamente malata. E' proprio perché una persona malata e in cerca di una sua ragione di vita veniva utilizzato in maniera becera da quelli che erano gli antisette, tipo Aris, Gris, Circe, i quali gli promettevano onore e gloria, si riusciva a dimostrare che i satanisti andavano in Germania ad allenarsi negli obitori, a colpire nei punti vitali le persone, cioè robe da folle, cioè robe che soltanto una mente folle, una mente malata poteva partorire. E in realtà il suo livello psichico, il suo livello emotivo andava sempre peggiorando, finché alla fine si è impiccato. Stessa cosa, diciamo, più o meno è quello che è avvenuto l'altro giorno con quel becero personaggio che era il nome di Gattotrocchi, Cecilia Gattotrocchi. Cecilia Gattotrocchi, un'altra persona profondamente malata, a cui i cristiani hanno promesso onore e gloria, al punto tale che avevano obbligato la RAI a invitarla in tutte le trasmissioni in cui si doveva parlare di sette o altre cose. Il suo stato psichico andava sempre più peggiorando, nel senso che si vedeva circondata da satanisti, c'erano in Italia più di mezzo milione satanisti, ultimamente era intervenuta anche la Polizia di Stato a smentirla, a riportare le cose in un ordine un po' più corretto, un po' più onesto, diciamo. Questa stava dando i numeri alla grande. Ricordo che era docente presso il Vaticano per un corso di esorcisti e che a ottobre doveva partecipare al secondo corso per esorcisti. Come docente. Come docente. Si faceva queste cose, insomma. E chiaramente era una persona malata, come tutti i cristiani, nel senso che non sono attrezzati ad affrontare la vita, cioè vengono disarmati, vengono costretti ad accettare la provvidenza, sono costretti a subirla. Naturalmente le forze della vita dentro le persone si ribellano. Allora nasce la depressione, nasce l'ansia, nasce tutto quello che è. Poi la vita ti porta davanti alla beccia della realtà, che sono quello di mezzo milione, lo so, adesso sparo un numero, ma prendetelo così, di morti sulle strade perché gli incidenti vanno a sbattere. Uno di questi incidentati è il suo figlio, questo va fuori completamente di testa e si butta giù dalle scale. Ha fatto male alle persone, ha seminato odio, terrore, menzogna gratuita, ha offeso in modo disgustoso la società civile, ha aiutato i preti a stuprare bambini direttamente e indirettamente, ne ha fatte di tutti i colori con la sua attività e davanti a un problema della vita, può essere grande o piccolo, sono un problema suoi, si suicida. Tutto il casino, tutta la merda che ha fatto, che ha seminato, la lasciare agli uomini, mangiatevela, gestitevela. Non posso altro che avere disprezzo per una persona del genere. E due, diciamo, che ci hanno fatto del male, Francesco ricorda anche qualcosa di personale, si sono suicidati. Per cui pensate, quando voi sentite parlare, sta gente degli antisette, i cattolici, pensate che sono solo persone malate, come poi si risolverà la loro malattia, questo dipende anche dalle condizioni della vita, dell'esistenza, delle loro singole scelte, però sono persone malate che hanno bisogno di trovare una loro ragione di esistenza. E quanto di più becero e di più infame ci possa essere. Mass Media, Rai, TV, usano persone malate per costruire odio sociale. Avvallano dichiarazioni di persone malate. La polizia di Stato è dovuta intervenire più volte e dice, guarda che non esistono se mezzo milioni di satanisti, non esistono tutti questi sequestri di bambini, tutti questi casini, non esistono proprio. E si trova davanti a personaggi malati di questo tipo, folli, che dovrebbero essere ricoverati o curati, quantomeno curati e seguiti, che invece hanno la libertà di offendere, di danneggiare il sistema sociale. Si è buttata alle scale. Adesso tutta la merda che lei ha costruito nel corso della sua vita la lascia agli uomini perché si arrangino. Fate un po' voi. Ma sai, io vorrei partire anche da una considerazione più ampia. Questi cacciatori di sette dicono sempre che le sette portano al suicidio delle persone. E ora io mi c'è dato a chiedersi cos'è che avviene all'interno di questa setta dei cacciatori di sette? C'è un qualcosa di particolare, un livello oscuro, una perversione, un qualcosa, un'induzione, un plagio mentale, una manipolazione mentale che è così sconvolgente che distrugge queste personalità. Fatalità! Queste sette di cacciatori di sette sono tutti cristiani cattolici praticanti, esaltatori del cristianesimo, esaltatori della superiorità del cristianesimo rispetto alle altre religioni, alle altre visioni, sostenitori che il cristianesimo è la luce, c'è la fede, la speranza, la possibilità di vita, la vita eterna, che è tutta la volontà di Dio, eppure all'interno di questa setta dei cacciatori di sette, che non è molto numerosa, perché non contano migliaia di adepti, di fedeli, di persone che coinvolgono ma poche decine di persone, siamo già nel giro di poco tempo che due esponenti importanti vanno a suicidarsi. In conseguenza, se esiste una setta pericolosa in Italia, esiste che è la setta dei cacciatori di sette, che appartiene alla chiesa cattolica e probabilmente su questa setta la polizia non può intervenire perché esistono strutture religiose e la chiesa cattolica che la protegge, che la sostiene, che la spinge avanti. Io mi ricordo uno dei primi interventi di Cecilia Cattotrocchi che disse che lei non comprendeva perché le persone si rivolgessero a forme alternative di religione quando avevamo la grandezza del cattolicesimo. Lei è stata affidata alla grandezza del cattolicesimo, ha avuto la possibilità di non essere la vecchietta di campagna, la beghina, la poverella, ma ha avuto la possibilità di diventare insegnante per gli esorcisti. Pensate quale onore, quale potere all'interno della chiesa anche perché questo corso di esorcisti non era organizzato da un centro per impiego, non era qualcosa di riservato ai casi integrati, non era una riconversione industriale in cui si cercava di trovare l'armonizzatore sociale per spostare qualcuno che era disoccupato. Era gente che si dice di cultura, affermata, con possibilità enormi, corso appunto sostenuto dal Vaticano e una docente che dovrebbe essere capace di insegnare e di cacciare il demone. Guarda che nella lista era la prima, cioè io ho visto la lista su internet, docenti nel corso, lei era la prima nominata, come quasi gli altri, poi il secondo è i climati, ecco, questi due erano i primi e dopo tutti gli altri si praticamente insegnati, preti o altre cose, si nascondevano praticamente dietro a quei nomi. Per cui tenete presente che era effettivamente il noccio centrale, cioè l'antropologa, lei veniva spacciata. L'unico scopo poi, lei si dichiarava antropologa, ma in realtà l'unico suo scopo è quella di dimostrare sempre la superiorità del cristianesimo. Io voglio ricordare che qualcuno dice che lei si è uccisa perché sconvolta dalla morte di suo figlio. Io vorrei ricordare che un sacerdote, nel caso del terremoto del Molise, di Bonefro, di fronte a decine di genitori coi figli morti, disse che probabilmente erano morti perché il buon Dio aveva bisogno di Angioretti. E allora, probabilmente lei che aveva un attimino più di cultura, che era un'antropologa, queste barzellette le poteva andare a raccontare a chi soffriva veramente. Di fronte alla sofferenza, al dolore, lei da buona cristiana aveva totalmente un animo impreparato e di fronte al buon Dio che li porta via suo figlio per far sicuramente un angioletto, non è capace di reggere, non è capace che la sua fede sia così forte e crolla e demolisce fra questa fine. Forse lo fa perché si è resa conto che ha impiegato tutta la sua vita andando contro persone che in realtà avevano più coraggio. Gente che poi logicamente nel deserto creato dal cristianesimo si cadeva in qualsiasi possibilità. Ma lei diceva che andava contro i santoni, contro i maghi, ed era giustamente. Però io voglio ricordare che proprio in questi giorni c'è in corso un processo a Vanamarchi. Gente che è stata, che ha subito dei danni, che ha subito dei ricatti, dei condizionamenti, non ha avuto nessun problema andare in un tribunale a testimoniare contro Vanamarchi di quello che hanno subito, di quello che hanno dovuto fare, delle minacce che hanno subito. Ben difficilmente chi va in parrocchia, chi va in chiesa, i genitori che vanno a un funerale del loro figlio e gli dicono che è morto perché il Dio aveva bisogno di Angioletti, ben difficilmente avranno questa energia di andare in un tribunale contro questi sacerdoti, contro queste persone. E il fallimento esistenziale della Cisela Cattrochi è in realtà la dimostrazione del fallimento esistiale del cristianesimo perché tutti noi conosciamo gente che ha avuto dolori simili e analoghi, che ha avuto una forza enorme nel sopravvivere e nell'andare avanti ma quelli che hanno avuto la forza di andare avanti senza essere demoliti sicuramente non erano di bravi cristiani e questo è un elogio a queste persone. Hanno avuto delle sofferenze enormi perché la morte di un figlio non è certo per una madre o per un padre uno dei dolori più semplici eppure tutti noi conosciamo casi di persone che hanno avuto situazioni più drammatiche però il loro animo non incentrato sulla fede sulla speranza o sul dio dei cristiani ma sulla volontà di affrontare l'esistenza gli ha permesso di andare avanti. la Cecilia Gatto Trocchi antropologa docente universitaria docente di una scuola di esorcismo di fronte a questo dolore è stata completamente incapace di affrontarlo di sopravviverci e si è annientata. Logicamente io sono contento della sua morte non ho problemi nel dirlo perché io dico se una persona stupida muore non perché muore diventa una brava persona. La Cecilia Gatto Trocchi è sempre stata impegnata ribadendo il suo cristianesimo il fatto di essere cattolica e che lei sosteneva le dottrine della Chiesa Cattolica. Questo l'ha fatto coscientemente e contro ogni forma religiosa contro sono d'accordo i giarlatani ma anche contro chi aveva le forme religiose ben diverse. Io ti ricordavo appunto un fatto particolare circa 20 anni fa la Cecilia Gatto Trocchi su un articolo sul panorama che ancora costruiamo nel Chiedo dell'Istituto si è riportata la frase che lei sarebbe venuta a Vicenza a conoscere i politeisti vicentini e con loro siamo andati a fare rituali in cui sacrificavano bruciavano cagnetti neri da Cecilia Gatto Trocchi logicamente nessuno di noi l'aveva mai vista nessuno la conosceva noi la conoscevamo solo per foto o per filmati eppure lei non ha avuto problemi di affermare questo tra l'altro attribuendolo non a un gruppo qualsiasi perché logicamente in quel momento esisteva in Italia un unico gruppo politeista che era il centro di registra politeista del Teurco di cui ne facevamo parte e che era collegato con la rivista di Milano il Teurco di conseguenza dire i politeisti nel 1986 in Italia significava identificare una realtà ben concreta e voglio ricordare che non era solo la follia sua ma che altri cacciatori di sette che spero mi auguro li vadano fare compagnia di animo hanno scritto anche cose peggiori in questo senso ma questo l'hanno fatto non perché a loro interessava comprendere le altre religioni le altre persone gli interessava garantire mantenere il potere cristiano sulla nostra società un potere cristiano che è un potere che deriva dall'impedicazione criminale di Cristo in cui porta sofferenza violenza in posizione nella società in cui noi passi verso l'inquisizione li stiamo facendo verso un stato teocratico di tipo fondamentalista lo stiamo facendo se questo stato cristiano si va a costituire è anche perché la Ciglia Gattotrocchi si è sempre impegnata in questo senso al di là del fatto che fosse antropologa perciò io sono contento della notizia e spero che non sia costretta a vivere da solo in paradiso se esiste un paradiso certo in effetti quando qualcuno semina odio e terrore così gratuitamente non si può non si può assolutamente dargli un minimo di credito o dire ah sai tanto è morta allora no è morta però quando era viva ha seminato orrore ed odio e alcune altre persone continuano a portare avanti quell'orrore e odio e molte di quelle persone un giorno diranno l'aveva letto la Ciglia Gattotrocchi la Ciglia Gattotrocchi ha scritto la Ciglia Gattotrocchi ha fatto e con questa sottolineatura continueranno a disperdere orrore odio e disagio sociale nella nostra società pertanto si può solo condannare questo tipo di persone e si può condannare tanto più duramente proprio perché sono ammazzate cioè è bene trattarle con disprezzo perché queste persone hanno trattato con disprezzo le persone che davano l'assalto al cielo della conoscenza al cielo della consapevolezza che tentavano di liberarsi dai legami che il Cattolicesimo aveva imposto a loro ed erano persone che nel dare l'assalto al cielo con tutti i loro errori con tutti i loro limiti stavano tentando di dare un contributo di libertà alla nostra società chiaramente avranno fatto miliardi di errori nessuno lo mette in dubbio probabilmente se li avremmo guardati molte di queste persone li avremmo anche riso ma sta di fatto che non è giusto che questa persona abbia buttato merda a quintali con il potere della RAI con il potere del Vaticano che la imponeva ogni pieso spinto ogni volta che gli era possibile al fine di diffamare persone diverse che praticavano religioni diverse da quella cattolica e torno a ripetere tutto questo odio che lei seminava è intervenuta la DIGOS è intervenuta la Polizia di Stato per limitare le sue affermazioni perché in più di qualche trasmissione c'era la Polizia di Stato che riportava i numeri riportava i dati riportava la situazione a elementi più compatibili con la nostra realtà e non è giusto che una persona sia in possesso di strumenti del genere quando dice delle cazzate così madornali non è giusto è seminare odio religioso è seminare terrorismo e ciò che ha fatto Vespa con questa persona o che ha fatto come si chiama poi quella del talk show che la usava Bruno Vespa la usava e la usava anche quello che faceva il talk show sul canale 5 ex grosso Costanzo cioè praticamente era ospite di Rai 2 quasi sistematica era ospite di radio praticamente c'è stata data tutta una serie di strumenti quando lei andava a diffamare le persone e nessuno l'ha mai censurata se non torno a ripetere la Polizia di Stato che dai media oltretutto i dati che portava la Polizia di Stato i media tendevano a ignorarli per dar valore ai loro perché attirava sicuramente più curiosità volete mettere quanta curiosità attira in più sui giornali pensare che ci sono 500.000 satanisti in Italia che fanno sacrifici animali o sacrifici umani che rapiscono bambini come dice anche quest'altro Don Benzi e invece rispetto a tira come giornali rispetto a una Polizia di Stato dice guardate non è vero se no i satanisti in Italia saranno un 200 si vabbè si vabbè qualcuno è drogato qualcuno fa delle stupidaglie ma tutto sommato non è niente di grave insomma sono sciocchezze non c'è niente di allarmante a livello sociale la Polizia di Stato dice questo Stato dice mezzo milione di satanisti che ti fanno i sequestri di persona che ti fanno questo altro che diceva vanno in Germania ad allenarsi per colpire sui punti vitali Don Benzi che va sempre da ospite della Vespa e dice sicuramente in Italia ci sono come minimo ogni anno 20 bambini che vengono sacrificati a satana Don Benzi abbiamo che la roba è veramente ed è grave è una zavorra notevole per la società abbiamo visto noi cosa sta succedendo in giro è effettivamente una cosa molto grave perché questa zavorra non è che viene posta così per tanto per fare qualcosa è una zavorra che ha il compito di impedire che in questo paese sia prodotto un dibattito religioso e venga messo in discussione il cristianesimo chiaramente si no ecco poi è una cosa che è da integrare l'articolo per dire che era una grande persona dice minacce di morte e di sorte leggi era un'ordinaria amministrazione guarda io per quanto abbia seguito le storie sull'attocco non ho mai sentito nessuno che abbia mai minacciato il più delle volte le persone la prendevano in giro per la sua isteria cristiana tutte le persone che io ho avuto occasione di leggere anche su internet che ha parlato della trasmissione lui disse che le erano obbligati a ospitare la Cecilia Gatto Trocchi lui disse va bene a questo punto se voi mi volete mi fate parlare per ultimo mi date il tempo che volete voi però io con la Gatto Trocchi in quanto non è una persona che cerca il dibattito ma che cerca sempre di attaccare le persone chiederò di parlare per ultimo datemi anche pochi minuti ma io voglio questo diritto perché sicuramente lei non parlerà a tema e il diritto questo mio amico disse addirittura io andai in trasmissione vestito normalmente perché la Gatto Trocchi aveva così povertà di argomenti di tesi di contrastare di corso pagano che si sarebbe appigliata anche se avesse avuto un annellino o avesse avuto qualsiasi cosa e decide di andare in giacca e cravatta proprio per questo motivo proprio perché la Gatto Trocchi lo suo scopo era il cane da guardia cioè nel senso di saltare addosso a qualsiasi cosa che non fosse cristiano e qua si cerca di esaltarla perché a me non risulta sicuramente non risulta non si è mai parlato e lei non ha mai dato notizia che la Gatto Trocchi si è attaminacciata di morte da qualcuno tutto quanto là se poi lei credeva alle fatture era un problema suo sì vabbè una che dice ho fatto un'iniziazione pagana vicca in un pub inglese beh sapete che io ho dei dubbi su questo tipo di iniziazione visto che io pratico ormai stragoneria da 26 marzo 1980 25 anni abbondanti e questo tipo di iniziazione beh insomma mi lascio un po' perplesso diciamo un po' io pure vado conoscendo moltissime realtà pagane anche vicca così via mai nessuno la conosce di persona l'unica persona che la conosceva era perché aveva partecipato a una televisione in cui c'era anche lei ma nell'ambito vicca pagano italiano nessuno l'aveva mai vista di persona e nessuno l'aveva mai sentita cioè nel senso che lei non aveva neanche interpellato nessun pagano di conseguenza io non mi riservo di credere alle affermazioni che lei fosse una conoscitrice della realtà lei era conoscita il fenomeno paganesimo come l'aveva un inquisitore ma d'altronde lei andava ad insegnare alla scuola aveva i dati che gli passava l'aris il gris il cirs e comunque non mi risulta che qualcuno l'avesse mai minacciato di morte nessuno l'unico che ha minacciato di morte è se stessa perché si è già tentato di suicidarsi con i barbiturici qualche mese fa anche questo viene fuori per notizia per cui era già una persona debole fragile utilizzata dalla chiesa cattolica lei andava bene cercava una sua ragione di vita le due cose sono date così lei ha seminato odio e terrore morte perché questo alla fin fine è quello che lei ha fatto e ha avuto ciò che lei ha seminato esattamente come Vojtila ha avuto solo in parte minima quello che lui ha seminato nell'ultimo periodo della sua vita purtroppo non parlano mai abbastanza sì beh sai diciamo che la chiesa cattolica il cristianesimo il monoteismo è sempre violenza e lei ha dato il suo contributo di violenza e d'altronde il fatto stesso che proprio quest'anno fosse partito il corso per esorcisti è indice del clima della volontà o del desiderio di cui si vuole creare la società e che tutti quanti i cattolici sono impegnati in questa direzione io vorrei agganciare appunto si dice che il nostro è un paese laico vabbè per fortuna è laico ancora per poco perché tutti quanti i politici sono sempre attenti di cercare di assecondare la chiesa cattolica non so se tu conosci il caso di Milano allora i consiglieri cattolici cristiani di comunione e liberazione hanno fatto obiezione al fatto di realizzare processi e matrimoni civili si rifiutano per motivi di coscienza di celebrare i matrimoni civili pazzesco è vietato per legge no allora hanno detto a Miliano gli azzurri questi sono i comuni di liberazione che appartengono a Forza Italia gli azzurri vicino al movimento non celebreranno le nozze in comune non siamo preti laici tre di questi consiglieri legati a comunione e liberazione movimento ecclesiale molto caro a Giovanni Paolo II uno ha detto ho chiesto a un prete se facevo peccato a celebrare un matrimonio civile ecco pensate questo è un uomo politico che amministra un comune non stiamo parlando che stia amministrando un qualcosa di particolare amministra un comune è un consiglio comunale di Milano e prima di fare una cosa del genere che è un diritto di cittadini chiede a un prete se commette peccato io penso che di questo passo visto che ci sono molti sindaci cattolici a cominciare dal sindaco di Malostica per essere chiari visto che ci ha negato già in passato una sala per le conferenze come tanti antisindaci nel Veneto io mi domando se di questo passo i sindaci cristiani cattolici o i consiglieri come i cattolici pretenderanno la confessione prima di avere mercati in comune a chiedere qualche attualizzazione qualche permesso vi chiederanno il cittadino di comunione per lasciarvi qualche licenza e se questo non è una visione integralista islamica fondamentalista è chiaro e dice un altro di questi consiglieri il mio non è un giudizio moralistico ma per noi il matrimonio è un sacramento cambi il mestiere non fai quel mestiere un altro consigliere che ha dichiarato non mi sono candidato per fare il prete laico cioè vendete non è la follia di un singolo cristiano qui sono tre consiglieri comunali che appartengono a una realtà cattolica che si chiama come una liberazione che rifiutano di prestare il loro servizio verso i cittadini si rifiutano di celebrare il matrimonio civile si chiama versione dell'ordine costituita comunque ecco un consigliere ha sempre dichiarato il prete mi ha detto se per una volta vai tranquillo corriere della serie domenica 10 luglio 2005 non siamo nel medioevo ecco di conseguenza pagina 13 tanto per dire nessuno trova anomalo il fatto che si arrivi a questo punto scattare una denuncia immediatamente va beh questo è la realtà e di questo passo dove si dove si vuole arrivare certo si vuole creare uno stato integralista chiaramente monoteista e i monoteismi che siano cristiani i cattolici che siano ebrei che siano musulmani sono tutti quanti uguali si porterà sempre a questo e questo succede appunto non da immigrati non da fondamentalisti che arrivano chissà dove arriva da gente che si chiama Stefano Carugo Alberto Garocchio Carlo Massaroli nomi tipicamente lombardi di gente che vive a Milano e che sono consiglieri comunali e quali sono le loro prospettive quali sono i loro desideri sa certo quello di creare uno stato teocratico uno stato teocratico che si richiami il principio del monoteismo ma in questo stato teocratico loro saranno quelli che devono obbedire perché altrimenti saranno messi sul rogo dopo averli infilato un ferro venti in culo o saranno quelli che costringeranno gli altri ad obbedire e metteranno gli altri sul rogo dopo averli infilato un ferro venti in culo quale ruolo avranno in questo stato teocratico questa è una bella domanda e quali diritti si aspetteranno i cittadini i cittadini meglio che sapere non esistono più diritti ovviamente perciò vi chiederanno il certificato di battesimo il certificato di comunione vi chiederanno la confessione regolarmente proprio perché l'Italia si avvia a diventare uno stato teocratico in cui i politici sono sempre ben attenti ad essere servienti di questo sappiamo che comunque la realtà è sempre quella dell'inquisizione cioè nel senso che il cristianesimo il cattolicesimo stando alla predicazione criminale di Gesù Cristo l'unico modo che ha di inserirsi di manifestarsi di concretizzarsi è l'inquisitore che fa violenza alle persone e che i peccatori se sono peccatori vanno a finire sul rogo perché bisogna salvare la loro anima perché importante appunto è salvare la loro anima che si se vada in questa direzione moralistica è anche chiaro perché si è parlato di prostituzione e il consiglio pontificio ha detto che bisogna punire i clienti punire i clienti perché perché commettono un peccato commettono un chissà quale abuso morale chissà quale violenza non si pongono il problema di dire vabbè ma se esiste questo desiderio di sessualità ci sarà un bisogno no perché logicamente il concetto è quello dell'area se esiste un'offerta di sessualità a pagamento significa che c'è un bisogno se esistono le cose è dati da tanti bisogni e anche da tante contraddizioni anche a tante devastazioni sociali a quale serve bene vedete il problema dei moralisti è sempre quello di creare sofferenza di non curarsi della realtà cioè come questi consiglieri comunali di Milano italiani e lombardi non hanno problemi nel rifiutare a un cittadino il fatto di celebrare un matrimonio laico perché loro sono cristiani e loro sono cattolici logicamente di fronte a un fatto che per 2000 anni la sessualità il monoteismo l'ha vissuta in maniera drammatica in maniera oscena in maniera pornografica non si pone questo problema sono peccatori e io mi ricordo un politico che era un attimino più interessato degli altri e disse che era assurdo chiudere le case chiuse e fece un discorso dice in Italia si calcano tante prostitute si calcano tanti clienti si calcano tanti rapporti e quando chiederemo le case chiuse questi milioni di coiti dove andranno a finire spariranno perché la legge li ha vietati e se ci sono questi milioni di coiti la legge li potrà cancellare cambierà il desiderio delle persone cambierà la richiesta no questi milioni di coiti non è che diventeranno tutti quanti casti ci siamo bisogno perché dovrebbero diventare casti soprattutto c'è la domanda eppure questo non interessa di conseguenza si parla chiaramente di punire i clienti cioè normalmente in una società si comprende quali sono i costumi cosa si comprende il modo di essere si cerca di comprendere i diritti dei cittadini e i desideri dei cittadini perché la chiesa cattolica parla di punire i clienti ma certo esistono condizioni di schiavitù della prostituzione ma esiste anche una prostituzione che non è legata a certa condizione di schiavitù che è fatta per libera scelta e perché uno non può disporre del suo corpo perché il corpo appartiene a Dio loro dispongono del corpo degli altri perché il prete padrona degli uomini per volontà di Dio ragazzi con questo sistema stuprono bambini si ma ma vedete perché anche perché loro non considerano gli altri persone li considerano peccatori li considerano sempre li considerano una sottospecie di umani gli altri gli altri ma d'altro sai quando si è parlato ad esempio di un del caso spagnolo del corso della legge che consente la nostra trama sessuale il Vaticano dice avvilente sconfitta dell'umanità ovviamente sconfitta del suo odio no ma a questo punto scusa se l'umanità decidesse di che questo è una cosa consentita chi è che è sconfitto scusa eh eh si pisci a me stabilissi che allora a questo punto c'è qualcosa che qualcuno che è umano e qualcuno che non è umano infatti qualcuno che ha non è umano anche se è scorretto pensare così però a volte ci viene anche da pensarci così eh questo è il Corriere della la Repubblica riporta fra virgolette il Vaticano due punte aperte a virgolette avvilente sconfitta dell'umanità ma noi sappiamo che l'umanità è composta da cittadini da individui da popoli da persone e che i loro costumi e le loro leggi se le fanno loro in base alla loro capacità culturale in base alle discussioni la famosa agorà di greca memoria e cos'era che i cittadini si trovavano discutevano comprendevano deliberavano stabilivano la loro scelta era una scelta fatta dai cittadini che avevano diritto e poteva anche essere revisionata rettificata corretta cosa che nel monotesimo non c'è fatto perché hai dieci comandamenti e da quei dieci comandamenti non si scappa ma perché come prima diceva che bisogna punire ad esempio i clienti e le prostitute ma scusa il problema non è un suo problema se esistono le prostitute ed esistono i loro clienti per che motivo esistono esistono perché le prostitute sono schiavitù o perché esiste una sessualità che non può essere manifestata perché al cristiano a Cristo a Cristo stesso dà fastidio alla sessualità almeno che non sia la pedofilia perché ricordiamo questo d'altronde proprio il problema classico è sempre questo che bisogna sempre colpevolizzare le persone perché rendendole colpevoli si crea quella energia per commettere le atrocità le atrocità nel caso ad esempio dei preti pedofili sono proprio date dal fatto che bisogna sempre colpire le persone renderle inadeguati renderli peccatori renderli colpevoli di qualcosa cioè il senso di colpa che deriva dagli insegnamenti del buon Cristo di rendere sempre colpevoli gli altri che sono peccatori che sono miserevoli che sono inadeguati insufficienti appartiene sempre ad ogni monoteismo e di conseguenza i monoteisti sono sempre pronti a correre in questa direzione ad agire ad affare a impegnarsi e c'è sempre disposti a gente che collabora in questo senso diamo un piccolo esempio un politico di cui evitiamo di fare giustamente il nome per motivi di dovuta censura disse che durante il referendum sulla fecondazione assistita gli disse è anche ora di mettere mano all'aborto e questo politico dichiara aperte virgolette mi hanno chiamato del Vaticano dopo che avevo sostenuto che la 194 è modificabile e mi hanno detto una cosa alla volta chiusa in virgolette questo è un politico italiano che è ben felice di dimostrare vedete io sono anche un cane obbediente io andavo a ringliare andavo ad azzannare andavo a dire voglio ancora di più e voi mi avete richiamato all'ovile dal buon pastore che tira la corda che chiama il cane del pastore e io sono rimasto nel gareggio e dà la dimostrazione pubblica di questa sua volontà di sottomissione di accettazione questo è un politico italiano sperano nei voti Francesco solo che non sanno che il Vaticano muove più voti questo che loro non hanno ancora capito però sai questo anche dà la dimostrazione della mancanza di indipendenza di una classe politica nel suo complesso spettacolo che abbiamo visto appunto quel discorso recente referendum sulla fecondazione assistita e soprattutto un politico che sia disposto a dire sì io ho subito pressioni io sì io sono limitato nel mio parlare perché qualcuno me l'ha ordinato implica anche un modello di cultura politica che non è certo simpatico che non è certo apprezzabile perché si vede che il politico è sempre attento a obbedire non ai cittadini che gli danno il voto ma a qualcun altro che disse di avere un potere più alto che gli viene da Dio bene Francesco prendiamo questo articolo di Scalfari sì vai vai sull'espresso di questa settimana l'espresso che finisce oggi praticamente da domani ne dico c'è il nuovo numero di espresso c'è stato un articolo di Eugenio Scalfari il vetro soffiato praticamente non è sto granché come come articolo di insieme però intitola la religione non muore le religioni e gli dèi sì a un certo punto dice il monoteismo nella sua rigorosa assolutezza deve scendere a compromessi con società sempre più fluide sempre più liquide per metà materialiste per l'altra metà sedotte dai culti misterici e termina praticamente l'articolo dicendo la natura è politeista l'essere politeistico e la vita soprattutto lo è basterebbe ascoltare la sacra di Stravinsky per capirlo la grande musica molto vicina al sentimento religioso spesso lo precede in questo articolo Scalfari non è che dice grandi cose però a un certo punto fa un'affermazione di questo genere e dice i mortali pregarono fervorosamente gli dèi e restero templi a Zeus ad Apollo ad Atena a Dioniso li venerarono descrissero i loro poteri prima di loro avevano evocato e venerato Cronos e prima ancora Urano non è esattamente così nelle fantasie di cristiani ma non è importanza generazioni di dèi adorati da generazioni di uomini mentre in altri luoghi del mondo altre generazioni adoravano Yahweh Isida e Brahma gli dèi e Dio comunque ed ovunque nominato questa è una visione panteista che è un po' sua plurimo o unico che fosse pensato dagli uomini per secoli per millenni a un certo punto dice le religioni la religione non muore ma le religioni muoiono e gli dèi muoiono con loro qualcuno costruirebbe oggi un tempio per Mitrarius o per Giunone? sì ma non solo uno questa è la domanda che ha scatenato anche mi sono guardato un attimino in giro e ho visto che c'è un sito mi sono accorto che c'è un blog per discutere l'articolo e ci ho passato la settimana a scrivere mi dispiace per quelli in lista nella main list che hanno avuto poco mi dispiace per chi frequenta il forum pagano che non ho messo molto ma penso che fosse abbastanza importante la cosa allora ho cominciato con un articolo cioè con con una breve un breve inciso dicevo alla domanda che poni qualcuno costruirebbe un tempio per Mitrarius o per Giunone la risposta è che io costruirò un tempio per Giunone nonostante 200 diffamatori specializzati in internet nonostante la costruzione di siti diffamatori nonostante le organizzazioni mafiosi dei vescovi italiani che mi impediscono di tenere una conferenza in sala pubblica di qualsiasi partito politico sia il sindaco di quella città la religione pagana politeista continua ad esprimere le necessità degli uomini perché la sostanza di cui sono fatti gli esseri della natura era e Giunone altro non è che un crogiolo gli esseri della natura era e Giunone altro non è che un crogiolo di dei che maltollera le imposizioni morali e sociali dell'orrore monoteista ci sono 5 siti in internet a mio nome per capire di più e che cosa sono e con le loro 300.000 pagina aperte hanno contribuito a sviluppare la memoria degli antichi dei in relazione ai bisogni e alle esigenze della società questo è stato il primo che ho messo naturalmente cosa succede in questi casi lo sappiamo benissimo esistono due filoni di personaggi che si presentano e sul blog si sono presentati praticamente un filone che chiamiamolo politico di destra di sinistra che non gli frega niente di quello che ha scritto cioè dell'articolo che parla di politeismo gli interessava soltanto la guerra in Iraq lo scontro Berlusconi lo scontro del governo eccetera e là è un filone poi c'è l'altro filone che si è presentato che è quello della difesa a spada tratta del cristianesimo e indovinate dove si è andato a parlare sulla pederastia dei preti cioè in tutto internet sembra che sia questo l'elemento fondamentale di discussione e di rottura fra i laici e i cristianesi naturalmente io sono intervenuto al limite non so nella seconda trasmissione magari vi leggerò le mail che ho messo e la loro articolazione a un certo punto volevo chiudere con un'ultima email dopo tutto lo scontro con i preti perché il problema vero è che quando gli dimostri che Gesù di Nazio viene arrestato con un ragazzino nudo quelli sono andati fuori di testa e allora hanno messo delle mail e dicono ma no perché tutti gli studiosi dicono che forse quella era la firma di Marco era Marco l'evangelista che era nudo con Gesù Coco so benissimo cosa sono gli studiosi e quale interpretazione ne hanno data il problema vero è un altro il problema vero è che Gesù non è mai esistito è che quello che scriveva Marco erano in realtà le sue fobie le sue paranoie e per Marco scrivere quella era una specie di ultima cena di Gesù tanto per essere in tema e allora naturalmente si sono venuti fuori con l'altro discorso ma Gesù dice chi porta scandalo a questi piccoli si lega la pietra ecco ma leggetela bene non ti dice di non stuprare i bambini ti dice che se tu vai dai bambini e gli dici Gesù è un povero mentecato che spara un sacco di stupidaggini questo è lo scandalo non stuprare i bambini anche perché se ricordate all'epoca anche nella società ebraica non esisteva il controllo delle persone attraverso il sesso attraverso la sessualità cioè la sessualità non era un oggetto che interferiva nella psiche sociale delle persone perché non c'era il controllo non c'era la morale sessufobica non c'era tutta una serie di cose che in realtà fanno da corollario questa esigenza l'esigenza del proteggere i bambini rispetto alla violenza nasce quando la società è sessufobica quando il sesso è usato come uno strumento di coercizione uno strumento di violenza uno strumento di possesso della persona perché noi possiamo tranquillamente leggerci i pezzi di Alcibia adesso non mi ricordo che tendo di portarsi a letto Socrate cioè l'allievo di Socrate ma è una cosa abbastanza normale insomma possiamo leggere la storiella di quello che ci prova e che va in bianco non ci riesce possiamo leggere qualse è storia di sesso possiamo leggerci la storia del cavallino non mi ricordo più adesso l'autore che sta attenta di farsi ragazzino più volte con tanti regali ragazzino ci sta ragazzino poi sono tutti adolescenti anche abbastanza grandi fra le altre cose però non fanno parte del controllo sociale dello stupro mentale fanno parte di un'altra società che aveva altre regole che aveva altri equilibri al suo interno e il sesso non incideva sulla struttura psichica e emozionale dell'individuo come invece incite oggi con la sessuofobia del cattolicesimo oggi è uno strumento di controllo di equatrizione specialmente la pederastia infantile gravissimo cioè distrugge la psiche delle persone in modo estremamente profondo ed è di una gravità enorme allora a parte il fatto che non c'erano i ragazzini in quei sistemi in quel modo perché era un'altra cosa ed era più che altro omosessualità non era stupro di minore adesso invece incide in maniera pesante e noi vediamo i cattolici stanno difendendo a spada tratte il loro diritto di stuprare i bambini avete mai visto voi un cattolico che vada a voi tira a dirgli o da razzi che tu non devi stuprare i bambini no scrivono ma veramente Gesù ha detto che se uno scandalizzano di questi piccoli si attacchi la macina che cade in me sì cioè praticamente vengono da te a giustificare che in fondo sì quei preti hanno stuprato i bambini però Gesù no scusa il prete è andato da Ratzinger da Vuitila e gli ha detto vuoi condannare a me perché ho stuprato i bambini ma guarda che si chiama imitatio il cristi è per questo che il cristiano è la follia del mondo dice l'articolo l'ex presidente della corte costituzionale è cristiano imita Cristo ed è la follia del mondo Cristo si faceva ragazzino nudo dunque anch'io faccio ragazzino nudo oh Vuitila oh Ratzinger volete condannare Gesù eh siete voi che condannate Gesù e per questo sapete che Vuitila Ratzinger non ha mai condannato i preti pederasti non possono non possono perché altrimenti condannano Gesù non sarebbero più cristiani esatto e esiste questa difesa assoluta di questo diritto di stuprare bambini che è di una violenza naturalmente comunque c'è stato tutto questo dibattito abbastanza complesso diciamo e alla fine chiaramente ho concluso con una questione pagana perché a quel punto ho detto meglio che concludiamo con una questione pagana e ho detto concludo leggo brevemente Francesco abbastanza breve concludo la mia intrusione al commentare l'articolo di Scalfari tentando di far comprendere con un esempio che cos'è il paganismo politeista prendendo spunto dal commento della teogonia di Esiodo che potete se volete leggerla sul sito http geosite sarvales in pratica consideriamo solo solo maiuscolo i figli di Rea la terra e Crono il tempo inteso come mutamento e trasformazione è solo per la presenza di questi due soggetti che vengono in essere Poseidone Ade Zeus Hera Esti e Demetra ma chi sono questi soggetti Poseidone è il mare fecondo in cui la vita si genera in continuazione Ade è il ventre il sottoterra l'uovo da cui la vita sgorga e in cui la vita torna alla fine del ciclo Hera è l'essere natura tutta la natura nel suo insieme Estia è la verità immobile è quanto ogni singolo essere della natura percepisce del mondo attraverso il divenuto della sua specie Demetra è la libertà la crescita la trasformazione colei che modifica in continuazione la nostra Estia la nostra concezione del mondo e della vita tutti costoro stanno nel ventre del tempo nel ventre di Kronos vi stanno fin tanto che l'atmosfera Zeus avvolgendo la terra Rea non costruisce le condizioni affinché questi dei non vengano vomitati dal tempo e possono manifestarsi nei figli di Hera l'essere natura gli esseri della natura manifestano Estia e Demetra manifestando Estia e Demetra sono usciti del brodo primordiale e hanno manifestato le specie le specie della natura in cui ogni singolo individuo era un Ercole che affrontando le fatiche della propria esistenza tentava di trasformarsi in un dio trasformando la propria morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso quando gli esseri umani manifestano Estia e Demetra non possono essere trasformati in oggetti di possesso non possono essere mentalmente manipolati non possono essere usati in soggetti a disposizione di qualcuno che risolve i propri problemi mediante le bombe perché oltre a manifestare verità e libertà questi esseri umani hanno la consapevolezza del tempo e delle trasformazioni che sono in corso non pensano che sta per arrivare alla fine del mondo e un povero pazzo giunge sulle nuvole con grande potenza questi esseri umani possono essere in difficoltà nelle condizioni della vita ma non sono disperati non cadono in depressione per le sfida che la vita pone loro ma si attrezzano per affrontarle questa è l'essenza del paganesimo e con questo ho chiuso ho chiuso col blog dopodiché ho dovuto però tornarci un'altra volta perché ho dovuto commentare di quello della pietra attaccata al collo perché ogni tanto se la tirano fuori comunque ho invitato parecchie persone a fare citazioni precise perché ormai erano a fare di testa tipo ma tu lo sapevi che Baal sodomizzava bambini scusa eh dove l'hai trovata questa cioè a un certo punto scambiano illazioni fantasiose con realtà oggettive cioè in queste teste dei cristiani veramente c'è un'immaginazione che è incredibile in altro fiato ti scrivono Bibbie diverse cioè tu non stai più discutendo con quello che è scritto sui loro Bibbie e sui loro Vangeli ma quello che c'è nella loro testa che fanno passare per vero incredibile sì ma di fatti sai è un classico perché siamo sempre nel concetto che gli altri sono peccatori e che commettono qualcosa ah no no una scusa cosa aggiungo io ho messo circa una ventina di post con i siti con tutto il resto e naturalmente c'è stato un fiume di arrivo sui siti internet non è che sia stato fatto gratis cioè in effetti c'è stato molto interessamento rispetto al paganesimo al di là di quello che ha scritto Scalfari sì beh Scalfari non ha scritto nulla di particolare certo che sai lui purtroppo si dichiara laico ma in realtà la tentazione verso Dio in lui è fortissima di conseguenza lui subisce questo fascino questa immagine del Dio cristiano e deve in qualsiasi maniera salvarlo è una condizione una situazione che non fa soltanto sua ma che purtroppo appartiene a una classe culturale a un gruppo culturale in Italia che avanza omogeneo perché non solo lui critica i mezzi ma non il contenuto di quello che dice la Chiesa Cattolica se pensiamo che un politico ha dichiarato proclamando i valori con la spada la Chiesa rischia di allontanare i fedeli cioè questo è sempre il problema del canale da pastore che dice ma no dobbiamo tenere dentro lo vile le grege le pecore non spaventiamone appunto quelli costi che possono essere portate al macello come se il buon pastore facciamoli un'immagine diversa ma in realtà è questo e appunto la volontà anche di Scarferi è sempre quella di salvare Dio alla fine insomma che poi è la posizione del fallimento dei laici o degli anticlericali che alla fine anche loro credono in Dio e quando credono in Dio teniamo il Dio del cristiano il Dio monoteista e soprattutto di fronte alla figura mostruosa orribile e terrificante che non è di Cristo non hanno il coraggio di ammettere che il problema del cristianesimo è l'esistenza di Cristo e il problema appunto del cristianesimo è che esiste un personaggio che storicamente non è esistito ma che come definizione come immaginazione come invenzione esiste che porta tutta una conseguenza di drammi il problema è sempre questo è la chiesa che si comporta male in realtà Cristo è il perfetto in realtà sì Cristo è il perfetto esempio di criminale e loro non hanno il coraggio di affrontare questo di sostenere questo proprio perché la figura di Cristo è la zavorra la pietra il collo è il braccialetto sono le manette che sono state messe nell'educazione di moltissimi bambini e fin qui questi bambini andranno in strutture in organizzazioni in spazi cattolici saranno sempre in questa condizione per questo è essenziale che i cattolici vengono confinati in opportuni recenti che stiano le loro grezze che però non tramutino tutta la realtà la società la cultura il nostro paese in un grezio in un ovile però quello che stiamo assistendo quello che stiamo vedendo quello che stiamo percependo indica qual è la direzione la volontà di tramutare il nostro paese in un grande ovile sì per questo diventa importante far capire anche i laici che finché si crede che ci esista un Gesù Cristo positivo che porte un qualcosa che manifeste un qualcosa che sia bravo in realtà commettono un grande errore e mentono a se stessi e mentono agli altri se questa dovesse essere vera non so se ridere o mettermi a piangere ciao ragazzi sono da Bassano oggi tramite la tv ho sentito l'ultima minchiata di Papa Ratzinger sul libro di Harry Potter che è stato scomunicato secondo voi questa è la prova o no? della violenza perpetrata dalla chiesa verso i bambini complimenti per la trasmissione cioè mi sembra un sì che arrivi la scomunica di un libro cioè effettivamente mi nasce un po' perpresso comunque vedrò adesso cosa ne tiriamo fuori in giro però fate voi il timeline scomunica non l'hanno ancora ripristinato non l'hanno ancora utilizzato hanno usato un sacco di libri che li hanno considerati come letture negative d'altronde l'indice dei libri proibiti delle letture proibite non appartiene certo a secoli fa ma pochi decenni fa ed è sempre rimasto ma non penso che siano così interessati a fare di un testo come Harry Potter un libro da scomunica da un libro da guerra di religione insomma vedremo cosa signor Ratzinger ha detto e cosa ha sostenuto in questo campo Francesco posso sfogarmi un po' sì sì beh attorno nella giornata secco la morte della Gatto Trocchi è una bella notizia chiaramente ci fa stare molto bene la faccenda no ma è sullo stesso giornale della morte di Gatto Trocchi che dà il gazzettino del 13 luglio c'è la fotografia di Vas Maggi no Vas Maggi e fratelli prigionieri di una setta una famiglia trevigiana dinuncia il plagio sarebbero con gli adepti del Santone Blas Maggi due fratelli e allora questi due sono maggiorenni vaccinati si sono fatte le loro scelte hanno fatto qualche telefonata a casa probabilmente hanno scaricato la famiglia e sto articolo a firma di Antonella Federici credo di averlo anche conosciuto circa 20 anni fa questa donna viene a dire una famiglia trevigiana denuncia di plagio allora chiariamo una cosetta il plagio è l'attività mediante la quale avviene una trasformazione psichica delle persone è un'attività fatta di un certo tipo di azioni che porta alla manipolazione mentale se questi ragazzi se sono andati via da casa e hanno scelto qualcos'altro non è il qualcos'altro che li ha plagiati ma è la famiglia che li ha plagiati cioè i plagiatori sono i genitori dei ragazzi che poi i ragazzi il plagio che hanno subito non lo hanno trovato soddisfacente cioè non hanno trovato le risposte per il loro plagio subito se ne sono andati a cercare qualcosa quello è un altro discorso fa parte della concorrenza sociale ma chi li ha plagiati chi ha manipolato le loro teste sono stati i genitori sono stati i familiari per cui non cambiamo le carte in tavola signori miei i cattolici plagiano le persone le rendono deboli fragili davanti alla vita e naturalmente una persona che è debole o fragile va a cercarsi qualcos'altro ma non è il qualcos'altro che li plagia sono i genitori che li hanno disarmati davanti alla loro esistenza perché loro a loro volta vendevano il culo come bestie al prete cattolico cioè in pratica hanno accettato di sottomettere sia il cristianesimo al cattolicesimo anziché essere rispettose rispetto ai principi costituzionali rispetto alla legge civile rispetto ai doveri di genitori rispetto ai figli il dovere di attrezzarli nella vita hanno preferito venire meno a questo più o meno come i rappresentanti del comune di Milano che vengono meno i loro doveri civili per i quali sono stati eletti per prostituirsi con un'ideologia diversa da quella che è costituzionalmente che regola i rapporti fra le persone per cui a plagiare questi sono stati i genitori cioè i genitori andrebbero condannati per non aver attrezzato adeguatamente i figli che poi i figli ormai in questo stato vanno a trovarsi qualcos'altro beh fra i loro sono maggiori vaccinati e scelgono e sicuramente quei due vanno a finire nelle statistiche delle persone rapite dei satanisti sarebbe interessante sapere come li hanno conteggiati i cacciatori di sette intendono sette intendono sempre qualcosa che non è cristiano in realtà questo è un lato in realtà che è totalmente cristiana tutti cristiani abbiamo fatto un'analisi di un altro articolo veniva fuori che gente scomparsa in realtà era andata in comunità alcune regolari alcune irregolari comunque sempre cristiane regolari nel senso alcune erano legate al cattolicesimo altre non erano legate al cattolicesimo ma è sempre cristiane sì sicuramente quando poi i cacciatori di sette fanno le statistiche beh adesso l'altro occhi non può fare più le statistiche per fortuna sì ma guarda noi sappiamo che ormai ci andrà dietro almeno un paio di persone cioè non è che sia un unattantum cioè non è che prima era Antonelli dopo l'agato Crocchi dopo non si era più niente noi sappiamo che la malattia sociale e la malattia della depressione ha una percentuale molto alta della società civile ma questi dati della malattia della depressione ha un livello altissimo fra i cattolici e i cattolici cercano la soddisfazione della loro depressione cioè riuscire a trovare delle motivazioni proprio dando la caccia alle persone per cui aspettiamoci altri suicidi tutto là è il discorso sì soprattutto all'interno dei cacciatori di sette proprio perché con la diffusione di possibilità che tutte le religioni che il paganesimo il politismo ha di raccontare di farlo conoscere anche perché il fatto stesso che Scalfari dica c'è qualcuno che vuole fare un tempio a Mitra il fatto è già una domanda interessante non si pone più di seguire Mitra è giunone sì se appunto se pensiamo che pochi mesi fa ci fu un intervento appunto di Roberto Vacca che disse che in Italia l'unica religione perseguitata che non poteva manifestarsi è l'antica religione di Roma e lo disse appunto Roberto Vacca in una trasmissione appunto di porta a porta però queste religioni stanno riaffermandosi stanno riconquistando stanno venendo fuori e logicamente la domanda non è una domanda retorica perché non sarà una sola persona non sarà un solo tempio ma saranno molti tempi che emergeranno che sorgeranno che verranno eretti o che torneranno a funzionare da chiese torneranno a essere luoghi di culto pagani ma in realtà prima che io arrivassi a mettere i miei post sul blog di Scalfari c'è già stato un post di un altro che diceva guarda che la religione pagana politista in Italia è estremamente viva e sicuramente qualcuno potrebbe dirti che lui i tempi li costruirebbe dopo sono arrivato io vabbè però c'era già questo era già in corso al di là di poi come le persone interpretano questo sentire era già espresso infatti quando ho messo i post si è visto come gli altri post si siano un po legati a questi in realtà il paganesimo è la novità è la realtà di questo paese volenti o non enti insomma poi vediamo il viare telefonate ma è un sacco di tempo ma si ma è perché vedi io qui ho una bellina cosa una cosa bellina 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 tu sai cos'è l'aquologia si cos'è